Il degrato sociale della gente Mai più, eh Tranquillo Questa va sicuro su YouTube Che cazzo di cazzini Quella che hanno fatto fare pure a me E guarda come devo andare adesso Feliz titanico Feliz titanico, bravi Ehi, dobbiamo fare Bravi Can't touch this Can't touch this Baccio, Baccio, Baccio Baccio, Baccio Bravi Ti odio Bravissimi 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 Sì, buon Dio Spiro, ti rubi a farlo Dio Eh, Dio Eh, Dio Eh, eh, eh Ehi Spera qua Baccio, ieri che devo fare Dio? che devo fare Dio? aiuto che devo fare Dio? WTF? A presto! ma che brutta roba è ma che brutta roba è ma la devo mettere come contenuti vietati ai minori di 18 anni anche 25 questo era dire prima del video è vietato severamente ai minori di 18 anni non dite a nessuno ma voglio fare uno speciale su che aspetta no 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 è vietato Get out the way, get out the way, bitch, get out the way Perché sparite dietro le colonne? In che delirio siamo finiti! Two extremely excited! Oh Nannu! non riesco a prendere buon anno buon anno le poverate le poverate buon anno buon anno aspetta ci vu ci vuole spoiler ci sarà già eh 1015 non ci vuole 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 non ci vuole